un caro benvenuto e un caro saluto a tutti e benvenuti soprattutto in questo nuovissimo video targato all'onso grifox oggi nessun tutorial oggi nessuna spiegazione ragazzi oggi mi porto una rubrica speciale prima di veramente però vi invito numerosissimi ad iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciare un bel mi piace sotto questo video fatelo sulla fiducia detto il meglio che mi sto conquistando commentare a parte gli scherzi fatemi sapere se questo format vi piace perché non solo ci tengo molto io ma scoprirete adesso chi ci tiene davvero oltre che me ma veramente ragazzi meritano tutto il supporto condividete tantissimo questo video e fatelo scoppiare veramente vi spiego un po di che cosa parliamo oggi ragazzi vi porto appunto il goal della settimana una rubrica eccezionale offerta dagli amici di football and friends si ragazzi una community pazzesca che esiste già da qualche anno e che fa soprattutto un servizio di totale informazione è sempre però con un linguaggio pacato di aiuto verso chi vuole approcciarsi a questo gioco e che io stimo molto vi lascio qui in descrizione chiaramente tutti i social di riferimento per il football and friends e ogni martedì su questo canale ci sarà appunto questa rubrica dove citterò chi ha fatto questo miglior goal che viene votato da una giuria ad hoc all'interno della community e lo faremo vedere appunto sul canale anche con uno shorts o qualcosa del genere ok ragazzi vi lascio però alle parole di uno dei due principali admin luca gallo di football and friends a voi luca a te la parola salve ragazzi sono luca gallo admin del gruppo facebook e football and friends ringrazio alfonso per lo spazio che mi sta dedicando per presentare un gioco una rubrica che si chiama il goal della settimana questa rubrica che noi facciamo è totalmente gratuita non c'è nulla in paglio c'è solo da divertirsi ogni persona può pubblicare un gol settimanale si può pubblicare dalla domenica a mezzanotte fino a venerdì a mezzanotte il sabato una giuria decreterà il vincitore si terrà una classifica aggiornata è un modo appunto diverso per per divertirsi insieme io spero che possiate iscrivervi in tanti partecipare e ringrazio ancora alfonso io sono luca gallo e football and friends ok ragazzi questa è la spiegazione di che cosa è football and friends e soprattutto di che cosa è la rubrica del gol della settimana mi raccomando ragazzi supportate tutti e football and friends qui vedete il logo della community lo sto facendo vedere bene 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 iscrivetevi sulla loro pagina facebook e soprattutto sul gruppo di cui ribadisco vi lascio il link in descrizione e partecipate a questa rubrica perché il prossimo ad essere presente sul canale youtube di aronsogreyfox potresti essere proprio tu mi raccomando ragazzi e adesso via col primo gol perché questa rubrica è già ripartita da tre settimane ma siccome io sono un caffone infatti volevo chiedere scusa a luca e a ricchi che sono i principali admin di football and friends non sto pubblicando solo adesso perché sono perché sono un pollo scusate ragazzi però meglio tardi che mai se come si vuol dire vai col gol direi che come esordio per la rubrica del gol della settimana non c'è male quindi ragazzi mi raccomando supportate il football and friends vi invito a lasciare un bel mi piace un commento e condividete il più possibile vi ricordo come sempre anche di seguirmi in live su twitch ogni pomeriggio dalle 15 e non solo seguitemi su instagram perché appunto li pubblico tutte le storie su eventuali variazioni di orari o di aggiunta di live quindi non mancate di seguirmi anche lì prima aggiornati su tutti i contenuti che usciranno è sempre simbolette ragazzi simbolette sempre qua ormai famosissimo quindi lo sapete io vi mando un grande bacio un grande abbraccio un grosso braccio e ci vediamo al prossimo video live contenuto taggato alonso gray fox